Bitcoin e Standard & Poor's 500 sono correlati, dove va l'uno va l'altro, sono a braccetto, sono collegati, avete presente quelle rondelle presenti all'interno delle catene? Standard & Poor's 500 e Bitcoin sono collegati, sono correlati, quindi basta seguire lo Standard & Poor's 500, vedere quello che fa e investire poi di conseguenza su Bitcoin e that's it. Abbiamo soldi facili, tutto facile, abbiamo ottenuto quello che dovevamo fare, siamo pieni di soldi, siamo diventati ricchi, vero o falso? Questa domanda è un po' una domanda che frulla nella testa di molti degli investitori nel mercato criptovalute da qualche settimana dopo il ribasso, in sostanza quello avvenuto a marzo per quanto riguarda Bitcoin intorno al 12-13 e poi SP500 ha seguito qualche giorno dopo. Da lì in poi sembra che i due mercati si siano proprio correlati ragazzi, attaccati visibilmente. C'è un problema relativo alla considerazione di questo tipo di analisi perché spesso la correlazione ragazzi è una materia estremamente complessa, in quanto sì è vero bisogna fare una serie di calcoli e poi si può riuscire magari a ottenere il tasso di correlazione, a capire se due strumenti sono correlati. Però poi la domanda è un'altra, cioè la correlazione è reale o è spuria, si dice così in termini statistici, cioè è una correlazione che dura per un tot di tempo e poi sparisce. Quindi quando si fa questo tipo di analisi è sempre un po' complesso dare delle conclusioni, avere delle idee chiare. Ebbene ragazzi io in questo video vi farò vedere tutto quello che ho fatto negli ultimi dieci giorni, la mole di lavoro immenso che mi ha preso una serie di ore ragazzi non vi nascondo per fare questo tipo di analisi, per andare ad analizzare tutti i dati dell'SP500 con Bitcoin, metterli a confronto, vi farò vedere tutti i punti che ho dovuto fare, quanto lavoro c'è dietro ragazzi, e vedere se sono correlati, se possiamo indicare questa correlazione valida o meno e che cosa dobbiamo fare per ottenere le risposte a questa domanda. E poi in ultima analisi, vale la pena di utilizzare la correlazione per i nostri investimenti sul mercato criptovalute? Possiamo tenerne conto quali sono le conclusioni finali alla fine del video. Bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, sono Mauro Caimi, oggi facciamo analisi, è un video di enorme qualità e di grandissima sostanza per il mondo criptovalute ragazzi, quindi mi raccomando, pollicioni in su per sostenermi per questo lavoro, condividete il video dove lo ritenete opportuno, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, fatemi sapere anche cosa pensate voi da questo punto di vista e se siete riusciti in qualche modo a creare delle strategie di trading per poter utilizzare questa correlazione che andremo a vedere oggi, se esiste o meno, lo vedremo tra poco. Andiamo subito a guardare tutti i punti che ho trattato e come sono arrivato a ottenere le conclusioni che vedremo in questo video. Cosa ho dovuto fare per arrivare a ottenere tutti i dati ragazzi? Allora primo punto è stato quello di recuperare i data feed di bitcoin e dell'SP500, per questo ho utilizzato la mia piattaforma di trading che è Multicharts, la piattaforma che utilizzo per fare trading algoritmico e andare a fare analisi di natura quantitativa, e lì ragazzi per avere i dati bitcoin sono gratuiti su Multicharts ma la piattaforma costa migliaia di euro ragazzi quindi non è assolutamente user friendly, quindi è molto complessa, serve solo se ci lavorate diciamo in questo settore, mentre per quanto riguarda lo standard impulse non sono gratuiti i dati, in questo caso ragazzi li ho prelevati da IQFeed, con uno dei miei abbonamenti che utilizzo quando faccio trading system e creo sistemi di trading sui mercati hold, quindi sugli indici di borsa, che tra l'altro ragazzi ci saranno delle novità a tal riguardo insomma perché ne sto tirando giù qualcuno anche da condividere poi nella mia academy. Secondo punto ho prelevato questi dati, ho salvato un file di testo, tutti i dati li ho dovuti importare su Excel per fare una serie di analisi tra cui quella della correlazione, a questo punto voi direte ok il gioco è fatto, ma alla fine tutti questi giorni no ragazzi perché? Perché per analizzare due dati dobbiamo anche renderli analizzabili tra di loro, standard impulse 500 con bitcoin hanno delle giornate di trading che sono differenti perché bitcoin ragazzi trada tutti i giorni della settimana, mentre standard impulse 500 no perché non trada nei festivi e né sabati e domeniche, lo sapete bene, quindi come si fa ragazzi? Andate a togliere tutti i dati di sabati e domeniche, tutti i dati dei festivi, per far combaciare esattamente i daily, quindi tutte le giornate di borsa aperta di standard impulse 500 con quelle di bitcoin. e ho avuto dei risultati che adesso ci spostiamo sui grafici e li andremo a vedere. Boom! Dritti al cuore dell'analisi ragazzi che ho adorato, non vi nascondo nonostante i miei sacrifici per tirla giù, allora questi che vedete sui grafici sono standard impulse 500 e bitcoin, lo standard impulse 500 è la lineetta blu, bitcoin la linea arancione e sono grafici con time frame ad un'ora ragazzi, questo perché volevo farvi vedere il tasso di movimento, cioè l'importanza, quello che dovete guardare ragazzi, è solo e esclusivamente il modo in cui si muovono, non i dati, i dati di correlazione, quelli veri, li andremo a guardare tra poco su Excel, quindi con le formule reali, insomma con tutto quello che c'è da vedere. Guardiamo però quello che è il senso dell'analisi ragazzi, da un punto di vista grafico, quello che interessa al trader è capire questi punti qui, vedete, questi punti in cui il mercato si muove in maniera palesemente uguale, vedete, qui è standard impulse 500, inizia a scendere, vedete, qui è bitcoin dopo un po', boom, va giù a fare questo minimo, stessa identica cosa, poi prosegue, qui bitcoin ci fa un minimo a un certo punto e standard impulse continua, bitcoin inizia a salire, dopo un po' standard impulse lo segue di nuovo e torna a salire. Questa volta ha anticipato bitcoin, qui ha anticipato l'SP500, questo è quello che interessa al trader, cioè andare a vedere effettivamente se si muovono insieme, perché se si muovono insieme c'è possibilità ragazzi di utilizzarli per fare operazioni di trading in profit, possiamo magari utilizzare i movimenti di SP e dire ok SP sta crashando, bitcoin ancora no, è pericoloso, chiudo la mia operazione di trading perché tra un po' potrebbe crollare, oppure aspetto primo segnale e esco subito, prendo un take profit se sto guadagnando, insomma possiamo fare una serie di considerazioni. Andando avanti ragazzi il problema poi è che non ritroviamo le stesse percentuali perché SP500 chiaramente non si muove come bitcoin, e quindi queste sono con un asse identico che è quello appunto della percentuale, quindi non riusciamo diciamo a guardarlo in maniera più chiara. Comunque il senso vedete anche qui ragazzi nelle giornate del 30 marzo in poi, il senso lo avete capito, mi interessava solo farvi capire sul grafico il senso da un punto di vista di trading. Spostiamoci invece sui dati reali della mia analisi, partiamo a guardare gli anni a venire e calcoliamo il tasso di correlazione tra Standard & Poor's 500 e bitcoin. Andiamo a guardare i risultati. Ed eccoci finalmente davanti ai risultati e le tabelline, tutti questi giorni di lavoro per 4 tabelline ragazzi, ma scherzi a parte però è stato veramente un lavorone. Allora vi faccio vedere intanto, questo è la matrice di correlazione bitcoin S&P 500 totale dati dal 1 gennaio del 2018 fino ad oggi, quindi il 10 di aprile, il 10-11 di aprile. E allora ragazzi la matrice di correlazione ve la spiego in maniera estremamente breve per chi ancora non sapesse il significato. Quando un indice, quindi una serie di dati, è correlata a un'altra serie di dati vuol dire che si muovono in maniera similare, allora avremo questo punteggio che sarà il più vicino al numero 1, all'unità ragazzi. Se siamo a 1 abbiamo la correlazione perfetta, se invece siamo a un numero negativo, quindi meno 1, abbiamo totale decorrelazione. Si dice così, cioè l'uno fa l'opposto dell'altro, inverso, ok ragazzi? Un po' uno spirito di contraddizione, potremmo dire così. Quindi il tasso di correlazione fra due serie storiche, due strumenti finanziari in questo caso, va da meno 1 a 1 e si posiziona in mezzo a questi due valori ragazzi. Se è a 0 significa che non c'è alcun rapporto. Più siamo vicini allo 0, più il rapporto in pratica non esiste fra queste due unità di misura. Cioè si muovono in maniera un po' randomica, quindi casuale ragazzi. Quello che vedremo è semplicemente casuale, ve lo ho spiegato in maniera più elementare possibile, più semplice possibile. Andiamo a vedere il tasso di correlazione calcolato fra Bitcoin e Standard & Poor's 500 ragazzi. E quello totale, quindi sono due anni in questo caso, 2018, 2019 e qualche mese del 2020 come dato. Abbiamo 1,0.35. Quindi analizziamo, cerchiamo di capire, questo tasso di correlazione generale ragazzi, 0,35, cosa ci dice? Ci dice che questi due strumenti finanziari sono stati correlati in maniera estremamente leggera. E questo è anche poco significativo perché non è una correlazione, più che altro è casuale ragazzi, perché 0,35 è più vicino a 0 che a 1. Quindi in sostanza l'analisi totale ci indica che questi due strumenti finanziari non sono correlati, non sono collegati tra di loro. Quindi non è importante dove va S&P 500 rispetto a dove va Bitcoin nella generalità dei casi. Però poi ho pensato, benissimo ragazzi, ma è difficile trovare due unità che siano fortemente correlate ragazzi per tanto tanto tempo. Cioè la correlazione è molto dipendente dal periodo che state analizzando. Perché se ci fossero due strumenti correlati per lunghi periodi ragazzi allora avremmo trovato la pietra filosofale. Ma questa cosa, come capite bene, è difficile che avvenga. Perciò è più probabile che avviene per un po' di tempo, per alcuni periodi. Ma questo al trader non spaventa ragazzi perché a noi non ci importa nulla di questa cosa. Se abbiamo una correlazione anche per qualche mese la sfruttiamo. Quindi l'importante è sapere se c'è. Poi quando andrà via non la usiamo più. Ovviamente i traders sono abituati agli stop loss, sono abituati ad essere in un clima aleatorio. Quindi a noi interessa solo capire se è un'altra arma che possiamo sfruttare per le nostre strategie. Perciò guardare quella totale ragazzi aveva poco senso. Allora sono andato a ritroso e ho detto bene, nel 2018 Bitcoin è stato l'anno in cui andava a scendere, andava a crashare, aveva la sua fase di ribassista, quindi il mercato orso. S&P ragazzi, a parte la prima parte mi pare del 2018 che abbia fatto il ribasso, poi è sempre salito. Ovviamente abbiamo una correlazione, vedete l'indice di correlazione del 2018, ve lo metto qui adesso in questo modo, è assolutamente zero ragazzi. Cioè nessuna correlazione, ne ne è decorrelato, ma non è neanche correlato. Quindi non c'è nessun legame. Questo per l'anno 2018. Dopodiché ho detto benissimo, andiamo avanti. E ho analizzato l'anno 2019 dividendolo ragazzi in due semestri e l'anno 2020 in mese per mese. Quindi ho fatto proprio il puntiglioso. Andiamo a vedere che per l'anno 2019 è aumentata la correlazione tra Bitcoin e Standard & Poor's 500. Perché Bitcoin nel primo semestre ragazzi del 2019 è salito e siccome S&P 500 saliva, allora i due strumenti si sono trovati sulla stessa strada. Infatti ragazzi vedete che nel secondo semestre 2019 non c'è correlazione tra S&P e Bitcoin. E di queste matrici, di queste matrici che vedete qui, l'unica che porta un risultato negativo, quindi con tecnicamente un risultato che ci dice decorrelazione ragazzi, se addirittura quasi come se fossero due strumenti decorrelati, quindi Bitcoin fa il contrario di S&P 500, era solo per un pezzettino di tempo. Quindi come vedete ragazzi, guardate un po', l'anno intero ci porta a una correlazione positiva, ma poi se li dividiamo ogni due semestri abbiamo avuto una correlazione positiva una parte dell'anno e poi decorrelato completamente i sei mesi dopo. Almeno così ci mostra Excel. Ho controllato questo dato quattro volte ragazzi, è questo quello che dicono i dati. Questo tipo di analisi ha senso utilizzarla in maniera estremamente temporanea ragazzi, perché vedete qui aveva senso, ma qui addirittura era l'opposto. Quindi insomma, ok ragazzi, non possiamo esimerci nel valutare questa cosa. Detto questo, abbiamo visto tutti sui grafici che nel 2020 questo tipo di legame tra S&P 500 e Bitcoin sembrerebbe essere stato più vicino. È un po' Bitcoin che va alla caccia di S&P 500 come alla ricerca di un fratellino maggiore per dire che devo fare, oppure di un papà per dire che devo fare, perché è sembrato un po' il mercato cripto un po' isolato, un po' troppo ancora poco maturo in questa fase di forte crisi. Arretto però ragazzi, è arretto. Però insomma un po' magari è andato a cercare S&P. In effetti ragazzi, per questi tre mesi del 2020, e ve lo metto qui, l'anno che stiamo analizzando in questo momento, abbiamo una correlazione molto forte, perché la vedete ragazzi, la correlazione è pari allo 0.82, è altissima ragazzi, altissima, perché sono pochi dati. Stiamo analizzando solo pochi mesi, ok ragazzi? In particolare molto forte, vedete, da mese a mese, nei mesi di febbraio e di marzo, vedete, è molto forte la correlazione, cioè quando è avvenuto la fase di bassista. In questo momento Bitcoin è correlato ad S&P 500? La risposta è sì, in questo momento. Ma la risposta che il trader deve dare è anche quella che la correlazione in questione probabilmente cambierà nell'arco dei prossimi anni, perché come abbiamo visto, quella totale ragazzi è quasi nulla negli ultimi anni, quindi più aumentano i dati, più probabilmente questo numero riporterà una vicinanza allo 0, cioè non c'è nessun legame fra questi strumenti finanziari nel lungo periodo, ma nel breve si verificano delle situazioni che possono essere spese a favore del trading e utilizzabili. In questo momento ragazzi è una di quelle fasi in cui probabilmente Bitcoin ed S&P stanno un po' attaccati. Quindi se per esempio una vostra strategia tiene conto anche di questo valore che vi ho, diciamo, sviscerato in quest'analisi, per magari il mese di aprile potrebbe essere vantaggioso, perché no utilizzare un eventuale punto di vista, come la correlazione tra S&P 500, guardiamo quello che fa S&P e diciamo che S&P sta salendo, Bitcoin, io sono long, non sono ancora take profit, magari aspetto perché ho un'analisi in più che mi dice il mercato potrebbe continuare la sua correlazione. Badate bene ragazzi che sono convintissimo che non durerà tanto, perciò se dura per il mese di aprile già è granché, ma se poi cambierà man mano che vedremo i dati, io starò qui ad aggiornare questa tabella. Probabilmente la pubblicherò sicuramente in Academy, ma vorrò anche darla a tutti il canale, quindi se vedo un po' di cambiamenti, perché no? Vi rifaccio un video ragazzi e vi pubblico tutto. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, che è stato una bomba, ragazzi non mi nascondo, ci sto perdendo le notti a queste analisi, è stato bellissimo però farlo, quanto sono belli i dati e quanto mettono chiarezza, dove nessuno può dire né I né A né O, perché poi l'opinione che diamo ai dati è soggettiva, ma i dati sono oggettivi. Mauro Cheimi qui con voi per questa altra giornata, grande informazione, fatemi sapere cosa ne pensate e come sempre io vi ringrazio per essere stati qui con me. Ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video.